Il nome di un finalista è ormai certo, quello del Barcellona, l'altro è invece probabile, il Manchester. Ma gli inglesi, per approdare in finale, devono ancora giocare 90 minuti, e difficilmente l'incontro di stasera a Lord Trafford contro lo Schalke 04 si rivelerà una formalità da amministrare. Per i tedeschi questo è l'incontro della vita, e sì, è vero che hanno un handicap di due reti, ma è altrettanto vero che non hanno nulla da perdere e che sono già riusciti a segnare 5 gol a San Siro contro l'Inter. E Ragnik, tecnico dello Schalke, usa proprio la sfida con i nero-azzurri per caricare i suoi, anche lì. Davano certa all'eliminazione dei suoi, e poi salviamo tutti come artiguita. La SNAI accredita l'1 del Manchester a 1,45, il pareggio tra i due club è dato invece a 4,25, mentre nel successo tedesco paga 6,50 volte la posta iniziale. L'1-3 che qualificherebbe i tedeschi per la loro prima storica finale è quotato 75 volte la posta, ma se non avete troppa voglia di rischiare o di sognare, stando pratici, c'è sempre il 2-0 del Manchester United dato a 6. La partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20.45 sul secondo canale Rai. Queste le probabili formazioni. Manchester United 4-4-2, Van Der Saal, Raffael, Ferdinand, Bidic, Evra, Nani, Schultz, Anderson, Park, Bebatov, Owen. A disposizione Kustak, Smaglin, Jonas Shee, Gix, Carrick, Valencia, Hernandez, allenatore Ferguson. Schal 04, 4-4-2, Neuer, Ucida, Mezeider, Auef, Sarpy, Bauman, Batip, Papadopoulos, Giurado, Edu, Raul. A disposizione Schober, Escudero, Plestan, Cluj, Karimi, Draxle, Untelar. Allenatore Ragnik, arbitro Pedro Proenca, Portogallo. Grazie a tutti.